Ragazzi, un film d'unboxing come il titolo perché la Japsan mi ha dato questo, comunque c'è Pippo che vi saluta, mi ha dato questo, il nuovo orologio, andiamo sempre con la carta di Sio, che attesta che è nuovo giustamente, aspetta, aspetta, Japsan, questo è il premium. Della Japsan, ti piace Pippo? Bello, bello. Comunque mi sto trovando abbastanza bene con il, con l'altro, comunque vi dirò come va ragazzi, non vi posso dire nulla, giusto Pippo? Giusto, giusto. E che ancora lo devo provare Comunque, facciamo il primo Comunque bellissimo Design come estetica, è abbastanza buono, peccato che non c'è la scatola perché forse lo stanno levando dal mercato, prezzo di 110, mi sembra più economico Mi sto facendo il primo inizio, l'avevo formatato perché l'avevo fatto partire per farmi vedere che era buono quella ragazza, comunque la ringrazio Tutto quello che fa per me e per il mio canale, comunque impostiamo la lingua italiana Comunque vi devo dire la realtà dei fatti A me piace molto Come estetica, mi sta piacendo moltissimo Mi piace come estetica, Pippo? Andiamo Con un tap si cambia Comunque io vi mando un prossimo video del premium di questa gipsa Dell'orologio gipsa Del video, anzi anche degli altri giustamente, di un video come va, una propria e vera recensione Io vi saluto ad un prossimo video Ciao a tutti ragazzi, un saluto da Pippo Pippo, dobbiamo portare dei contenuti, è da tanto che non siamo su Youtube Ok, ciao a tutti ragazzi